Sicuro che troveremo un avversario che avrà grande fame di risultati, questo poco ma sicuro. Un avversario che viene da una situazione probabilmente anche psicologica un po' particolare e quindi cercheranno di trasferire in campo tutta quella che è una rabbia agonistica e noi dovremmo essere molto preparati a questo, sapere che troveremo un ambiente di questo genere e quindi dobbiamo saper incanalare nella maniera giusta questo tipo di situazione e sfruttarla al meglio per noi, però è imprescindibile il nostro tipo di approccio, il nostro tipo di atteggiamento e poi davanti potremmo trovare un avversario arrabbiato finché si vuole, però noi dobbiamo pensare molto a noi stessi e quindi andare subito in campo cercando di dare un'impronta importante. Palermo ha dei giocatori di qualità, dei giocatori di spessore e noi dobbiamo veramente fare ancora molta più attenzione di quella che abbiamo avuto probabilmente contro la Juve. Io credo che per capire se noi siamo stati in grado e capaci di fermare la Juve la risposta la possiamo solo avere domani dopo la partita di Palermo. E' questo che mi aspetto. Diciamo che la partita in sé contro la Juventus è stata solo un primo tempo, il secondo tempo è ancora da giocare ed è quello di domani e le valutazioni proprio sulla Juventus le possiamo fare alla fine della partita con Palermo. Io credo che questi giocatori possano fare meglio di quanto stiano facendo, ma non è per ambizioni personali, ma perché vivo la realtà quotidianamente e capisco e mi rendo conto dei margini di miglioramento che hanno, delle possibilità e dei limiti che ancora hanno, in tutti i sensi. Quindi se questi limiti si possono smussare, si possono migliorare, è chiaro che ci sarà una crescita ulteriore e una crescita ulteriore può non andare di pari passo con anche risultati differenti.